E' stato intitolato a Gaetano Michetti uno dei piazzali adiacenti la sede della regione Basilicata. Gaetano Michetti è stato presidente della giunta regionale della Basilicata dal 1985 al 1990. La cerimonia di intitolazione si è svolta per iniziativa congiunta della regione e del comune di Potenza. Nel corso della cerimonia Michetti è stato ricordato come uno dei protagonisti della crescita della Basilicata, con mozione per l'affetto e la stima dimostrato nei confronti di Michetti dalle istituzioni lucane è stata espressa dalla figlia Giulia. Michetti, che è stato anche sindaco di Pisticci, ha guidato un'aggiunta regionale di Cipsi-PSD con l'appoggio esterno del PRI. Michetti è deceduto nel 1999 all'età di 55 anni.